Ben trovati ad Alfabeto in Salotto. Oggi ci occuperemo di una lettera che è la lettera D. Proseguiamo con il nostro alfabeto. Oggi vi mostro questa immagine. L'immagine della clessitra evoca fondamentalmente un tempo, una durata, un periodo in cui bisogna attendere. Oggi infatti la nostra D è di durata. Allora ci aiutiamo sempre con il dizionario. La durata è quell'intervallo di tempo in cui si svolge dal principio alla fine un determinato fatto o un fenomeno. La durata, il tempo o l'orizzonte temporale è un elemento fondamentale negli investimenti finanziari e lo è per diversi motivi. Vediamo quali. Intanto i nostri obiettivi hanno bisogno di tempo per poter essere realizzati. Quindi gli strumenti finanziari che noi utilizziamo per realizzare quegli obiettivi hanno bisogno di tempo. La durata è l'elemento che caratterizza gli strumenti finanziari che ci vengono offerti e quindi ovviamente noi avremo strumenti finanziari diversi con durate diverse ma addirittura potremmo avere anche degli strumenti finanziari uguali con durate diverse. La durata è anche il parametro rassicurante che ci dice se lo strumento finanziario che abbiamo scelto per i nostri investimenti è adeguato al nostro obiettivo personale. Come facciamo a classificare la durata? La durata normalmente coincide con il tempo che noi abbiamo a disposizione per l'utilizzo dei nostri soldi. Allora è chiaro che se io devo andare a fare le vacanze o devo andare a pagare il professore di ripetizione di mio figlio ovviamente dovrò scegliere uno strumento finanziario che si attesta su una durata breve cioè 0-12 mesi. Ma se per esempio io pensassi di voler aver programmato l'acquisto o il cambio della mia automobile ovviamente dovrei pensare ad un strumento finanziario che si colloca in un orizzonte temporale che va da 1 a 3 anni cioè ho programmato una spesa. Ma potrei anche per esempio pensare a degli obiettivi miei personali molto più consistenti tipo l'acquisto di un immobile, una realizzazione professionale, l'università dei figli. È chiaro che lo strumento finanziario che io devo andare a scegliere è uno strumento che deve avere un respiro un po' più ampio con una durata maggiore quindi diciamo da 3 a 7 anni. Ma potrei anche addirittura pensare alla pensione, potrei pensare al periodo della maturità, ai nipoti e allora dovrei andare a scegliere uno strumento finanziario che ovviamente si attesta in un orizzonte temporale molto più lungo quindi oltre i 7 anni. Allora in un tempo, in un periodo, in un momento storico in cui siamo tutti accelerati dove cerchiamo di recuperare il secondo affinché a fine giornata abbiamo 5 minuti in più il tempo è un limite e quindi tutto ciò che è lontano è sempre più lontano, tutto ciò che per realizzarlo ci vuole tempo diventa uno spreco di tempo. Allora l'invito che io faccio nel valutare il concetto di durata per gli investimenti finanziari, abbandoniamo per i nostri investimenti finanziari, abbandoniamo assolutamente il concetto del tutto e subito e del mordi e fuggi. In finanza e per i nostri investimenti questo è un inganno pericolosissimo. Alla prossima ci vediamo con la lettera E. Allora